cerchio e seno attraverso nt 4 febbraio 2023 alexander salve ciao abbiamo dovuto necessariamente scaricare le energie in eccesso in quanto ne potevano approfittare entità non ben disposte questa sera sono tante purtroppo forse la cosa vi stupirà un poco tre di voi non vengono volentieri a queste riunioni sono costretti da circostanze familiari o altro però noi speriamo e auspichiamo che il loro interesse vada crescendo nel tempo in quanto devono porre pensiero anche al problema del post mortem vivere alla giornata vivere quotidianamente non vi serve per l'evoluzione dovete sì certamente socialmente parlando vivere una vita materiale ma dovete sforzarvi di proiettare il vostro pensiero verso mete più elevati capite momentaneamente vi lascio poi porterò un dono ad uno di voi grazie